Buongiorno a tutti. La parola che secondo noi riassume il meglio la situazione a livello economico globale è convergenza. Convergenza verso un livello più basso dalla parte dell'economia americana abbiamo visto un primo trimestre in America un po' deludante rispetto a quello che era atteso, ma diremmo che è probabilmente soprattutto congiunturale. In Cina vediamo che lì c'è un ralentamento che è molto più strutturale dovuto al fatto che questa economia, come l'abbiamo notato prima, deve cambiare il suo modello di sviluppo, sostituire una domanda domestica alla domanda esterna che è stato il modello per gli ultimi 30 anni. In Europa, l'Europa è stata la buona sorpresa infatti della crescita mondiale dall'inizio di quest'anno dovuto al prezzo del greggio che è andato in giù in maniera abbastanza massiccia dovuto ai tassi di interessi che sono molto bassi, ma anche al fatto che la valuta all'euro si è svalutata di maniera anche lei abbastanza massiccia rispetto all'oraro. Tutti questi fattori hanno permesso un'economia europea molto più favorevole rispetto al passato e questa è la buona notizia del primo trimestre. Cosa significa questo ambiente a livello dei mercati? Abbiamo vissuto durante questi primi quattro mesi dell'anno dei mercati che sono stati molto in su, sia sull'obbligazionario che sull'azionario. Sull'obbligazionario abbiamo visto dei livelli mai registrati in termini di tasso di interesse, quasi a zero sui dieci anni tedesco, ma vediamo ad oggi che la metà delle emissioni europee in obbligazioni sono a zero o sotto il livello zero. Questo è eccezionale, dovuto al fatto ovviamente del quantitative easing dell'ABC. Abbiamo visto anche che i mercati azionari hanno beneficiato dell'andamento dei tassi e dell'andamento della banca centrale europea per vedere un movimento al rialzo dall'insieme dei mercati europei azionisti. Nello stesso momento, di maniera abbastanza logica, abbiamo visto un euro che si è svalutato rispetto al dollaro. La settimana scorsa, fine aprile, abbiamo vissuto un preso di benefici sia sull'euro dollaro che sull'obbligazionario o sui mercati azionari, che ci sembra abbastanza normale dopo le performance straordinarie o eccezionali che sono state registrate durante i primi mesi di quest'anno. Qual è la politica di investimento in questo ambiente che vogliamo implementare nei nostri portafogli? Infatti, come lo sapete, da mesi, da trimestri adesso, siamo molto più a favore dell'azionario europeo rispetto alle altre asset class. Questo atteggiamento lo manteniamo. Lo manteniamo perché consideriamo che la crescita in America rimbalzera durante il secondo semestre di quest'anno. pensiamo che la crescita in Europa si svilupperà, dovuto ai fattori citati prima, e che globalmente non vediamo un rischio di rialzo durevole dalla parte dei tassi di interessi. Dunque, significa che l'asset class, la classe di attivo che noi privilegiamo, rimane nazionario europeo. Sull'obbligazionario, come lo sapete, noi consideriamo che dobbiamo essere cauti rispetto ai livelli di tassi di interessi, sono così bassi che non c'è molto potenziale di miglioramento e allo stesso momento non siamo molto preoccupati di un rialzo durevole dei tassi, dovuto al fatto che la banca centrale d'Europa continuerà per un bel po' di tempo a mantenere il suo quantitative easing. Il quantitative easing spiega l'andamento dei mercati e questo spiega il nostro optimismo a breve e medio termine. Vi ringrazio per la vostra ascoltanza e a fra poco.